Se questo video raggiunge 300 mi piace vi posso assicurare che andrò a fare una nuovissima live molto a breve qui sul mio canale youtube lasciando inalterato il discorso di twitch Sarà una live non con partita personalizzata bensì con il sottoscritto che giocherà le varie unità Quindi 300 mi piace ce la possiamo fare Tra l'altro una cosa molto importante per quanto riguarda questo video sentivo l'esigenza enorme di lanciare dei missili Quindi ho detto cavolo perché non comprare il un attimo il Raketen Young Panzer 2 HOT Abbiamo già visto la versione precedente che sarebbe insomma il 2 senza l'HOT Questo qui per farla molto breve ha dei missili che possono, missili guidato anticarro che può praticamente penetrare fino a 700 a qualsiasi distanza Ne abbiamo la bellezza di 20 che sono molti di più rispetto alla versione precedente che poteva portarne 14 Quindi 6 in più sono tanti se considerate magari in una partita lunga possono fare la differenza Abbiamo una resistenza scafo e torrette inesistenti 4 membri dell'equipaggio e una velocità massima di 70 Non raggiunta però il carro rimane abbastanza rapido Un'altra nota positiva oltre che insomma il carro è abbastanza difficile da vedere soprattutto con i camuffamenti che ho messo Ha una retromarcia molto elevata In caso ci sia necessità potete ritirarvi se il nemico non vi ha one shotato Andiamo a vedere qualche clip per farci un'idea Clip Dai dai ma stai scherzando Hai avuto quel mezzo millesimo di secondo per sparare altrimenti lo avevo massacrato e con il secondo lo mandavo a casa Buono Eh però 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 solo artigliere no eh Solo artigliere non andiamo d'accordo te lo dico Solo colpo non andiamo minimamente d'accordo però tecnicamente io ho ancora tiro Sì via va bravo Rimani là fermo eh Non ti muovere Sì una kill per day Adoro questo carro Adoro questo carro Forse è il più divertente di tutti E possiamo lanciare tanti miss Lo so che c'è qualcuno lì Abbi pazienza però non è che posso neanche Vai tu bravo non avere paura Vai tranquillo Allora un attimo Tu dici che ce ne sta uno da quella parte Eccolo Buono Come esplode bene guarda lo adoro lo adoro Comunque ha chiamato bene lui il nemico Adesso dobbiamo capire dove è l'antiaerea Però arrivano le rinforze quindi C'è qualcuno largo o no Ok binocolo Sembra pulito Piano piano Perfetto Binocolo Siamo a due kill Purtroppo dobbiamo utilizzarlo in maniera molto parsimoniosa Perché al minimo colpo esplode tutto Quindi non pensate di pushare ad occhi chiusi Perché non funziona così No Eccolo Eccolo Uno sta là Uno sta là Uno sta là No dai Solo motore Cingolo No però Mettiamola così Non si può muovere Mi ha mancato Grande Porca miseria Mi serviva qualcosa Ma c'è pure l'albero che mi blocca Dai Non sto capendo niente Eh non muore Guarda Nel lato non riusciamo proprio Riproviamo Ho paura casomai Eh vedi Guarda guarda Levati Levati Eh niente Era un M60 Non siamo riusciti A portarlo a casa Vabbè Ormai è andata Là ce ne sta uno Là ce ne sta uno Poca Solo colpo Va bene Qualcosina me la poteva dare però Eh Un colpo critico Oh boy Beccato in pieno E mi sa che ti ho anche salvato Peccato perché aveva fatto No una kill l'ha fatta Però dai Aspetta aspettami Sbalzo orizzontale Della torretta Assist Eh E mo Eh E' normale E' normalissimo Guarda Pilota Servente Era normale Ne abbiamo uno davanti Non so se l'ho riuscito a vedere Proprio all'angolo di quella casa Che fa avanti e indietro Però per me E' quasi impossibile Da colpire Perché Appena esco Mi Mi becca Quindi Dobbiamo andare Su quello là Eh ma Non è posto Ma ce n'è sempre uno Ce n'è sempre uno Pronto a mettertela In quel posto Incredibile Guarda Ce n'è sta uno Qua dietro Vediamo Se è così Tecnicamente Sì Ce n'è stava uno Sì Però E' stato distrutto Aspetta Qua c'è Uh eccolo Aspetta Aspetta Arrivo 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 Sta qua dietro Sta qua dietro Non mi ha visto No Ma Siamo seri? No Ma non ci voglio Credere In piena torretta Neanche un minimo Di danno Ragazzi Che cosa ho appena Clippato Non ci voglio Credere Vedo meno Unità Su Charlie Su Alpha Abbiamo Ne abbiamo Anche troppe Che bello Distruggere T55 Guarda E' una sensazione Fantastica Da dietro Proprio Nel collo Tac Vediamo se c'è qualcun altro Sperando che nessuno Faccia tac Su di noi Binocolo Sembra libero Aspetta 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 Non mi mettete Ansia Si Qualcuno Sta là Però Non è che Riesco a Vederlo Più di tanto Anzi Magari Svolto A sinistra E lo trovo Davanti Capito Tecnicamente Siamo vicini Solo che Giocare così Il carro Non va bene Non mi aveva visto Artigliere Serbatoio Comandante E Se rimani così Mi dai una kill E mi fai un grosso favore Per la clip Youtube Davy G90 Dove è ca Mi ha visto Ora mi ha visto Perché il missile è andato così Non sono qua Non sono qua Sei in errore Hai visto male Come cavolo dobbiamo fare E sta uno Proprio qua Oh boys No non possiamo fare niente Perché ormai si è ripreso Dovevo chiuderlo con quel missile Non sono riuscito Sta ancora Ricaricando Riparando E questa cosa è fantastica Allora Se vado sulla destra Mi vede Se vado sulla sinistra Mi vede Ora riparato E sono cavoli amari No di qua comunque Non mi può attaccare E non c'è nessuno Che mi salvi Non c'è veramente nessuno Ma Porca miseria Ladra Ora non posso Né scendere Né salire Né scendere Né salire E stiamoci Che ti devo dire Però stanno arrivando L'antiere arriva Arriva qualcuno A dare una mano Stanno catturando Vieni 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 antiera Spara nel lato Vai Spara Gepard È tuo Basta che lo distrai un attimo Lo devi solo distrarre Bravo Bravo No Oh boys Grazie Grazie Però abbiamo perso Il Abbiamo perso L'alleato Il Gepard Le due Antiere Comunque c'è da dire Che sono venute Per darmi una mano Sono state davvero Molto gentili Brave Non c'è più tempo Non c'è più tempo La partita viene vinta Io Non so come abbiamo fatto A gestire quel settore Nervi D'acciaio E E niente Tutto il resto Wow Una partita Che è stata veramente Al cardiopalma Mi verrebbe da dire Per quello che si è visto Una Tensione Che si affettava Come nulla Soccorritore Di carri per uno Con un colpo Tutto questo casino E siamo arrivati Decimi Grazie Un carro Divertente Al punto giusto Però Spesso e volentieri Le mappe Non vi daranno Una mano Infatti Dovrete reinventare La vostra posizione E la modalità Di attacco Di confronto Contro il nemico Altrimenti Non riuscirete A sparare Neanche Mezzo missile Tutto sommato Vale la pena Sbloccarlo È un ramo È un ramo Che si chiude All'hot Quindi dopo Non c'è più niente In futuro Non so A questo punto Data l'esperienza Del T72 Del T72B Che ha visto poi Il B3 Non so se ci sarà Qualcosa In futuro Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi Ci vediamo Con un prossimo gameplay Ciao Ciao